Il nostro come Lega Fano è un invito a tutta la cittadinanza a partecipare all'incontro che si terrà giovedì sera 7 novembre alle 21 alla Sala Don Milani di fianco all'Aclidi Bellocchi. Questo perché finalmente vogliamo chiarire quella che è la situazione del digestore. Se ne è parlato tanto, soprattutto in campagna elettorale, quando sono state fatte delle promesse in prima persona anche dal sindaco di Fano Massimo Seri che diceva che assolutamente non si sarebbe fatto alcun digestore a Fano ma probabilmente sarebbe stato realizzato in un'altra città mentre adesso si scoprono finalmente le carte. Quindi vogliamo dire basta a tutte le bugie che sono state raccontate, soprattutto in campagna elettorale come proclami e vogliamo invitare la cittadinanza per spiegare e carte alla mano con anche studi di fattibilità di quelli che sono gli investimenti quello che sarà veramente il progetto del digestore. L'invito ovviamente è rivolto a tutta la cittadinanza, anche sicuramente questo è un argomento che ha a cuore agli abitanti soprattutto di Bellocchi e Falcineto perché lo studio che era stato realizzato dalla ditta Nomisma e finanziato con 40.000 euro dava proprio come sito adatto per la realizzazione di questo digestore quello di Bellocchi. Quindi vogliamo assolutamente come lega Fano dire no a questo digestore, no a Bellocchi e dare risposte reali e fermare questo scempio prima che venga realizzato.